Ci può dare uno spaccato della situazione delle start-up in Regione Campania? Ma direi che questo è un momento molto positivo per le nostre start-up. Abbiamo chiuso a fine luglio un bando importante di 30 milioni a cui hanno partecipato più di 870 gruppi tra start-up costituende e costituite. Oggi siamo la prima regione italiana per start-up under 30, per start-up giovani, d'altra parte siamo anche la regione più giovane d'Italia e consolidiamo il nostro terzo posto per il numero di start-up innovative. C'è molto fermento, molta partecipazione e questo ovviamente per noi è un bellissimo risultato. Quali sono i nuovi strumenti che mettete in campo per le start-up? Abbiamo un nuovo strumento in partenza, è una bella sfida anche per noi perché è uno strumento di equity, quindi di finanza innovativa. Abbiamo deliberato 42 milioni che quindi attireranno almeno una quota uguale, quindi sarà un intervento sotto i 100 milioni e andremo a finanziare interventi territoriali per percorsi di accelerazione di impresa, percorsi di tech transfer, venture builder e ovviamente un fondo di fondi. Quindi alla finanza fondo perduto si affianca la finanza innovativa, è una sfida e speriamo di coglierla bene.